buongiorno bentrovati buon 14 febbraio oggi la chiesa ricorda in particolar modo i santi cirille metodio certo è anche san valentino ma sono più importanti santi cirille metodio che sono gli evangelizzatori degli slavi erano nati verso l'inizio del nono secolo a tessalonica erano greci costantino e metodio scelsero di consacrare il signore in maniera diversa perché dapprima costantino fu studioso filosofo mentre metodio lavorava nella amministrazione pubblica ma poi metodio in tre monastero e invece cirillo che si chiamava costantino era sempre un importante funzionario imperiale però rapporti con gli slavi impararono la lingua degli slavi e poi vennero mandati dall'imperatore michele terzo ad annunciare il vangelo agli slavi qui intuirono la necessità di tradurre nella lingua degli slavi il proto slavo il messa e la bibbia in maniera che gli slavi potessero pregare dio con le loro parole questa opera missionaria fu coronata da grande successo ma incontrò le ostilità di altri sacerdoti e vescovi e per questo andarono a roma per essere confermati dal papa il papa confermò la loro missione ma costantino si ammalò e cambiò il nome in cirillo diventando monaco e morì il 14 febbraio 869 a roma il papa ordinò che gli fossero tributati in ori come se fosse il papa metodio ordinato vescovo e legato pontificio tornò in pannonia ad annunciare il vangelo ebbe a soffrire ancora molte incomprensioni fu accusato di eresia fu anche incarcerato ma alla fine ebbe ragione di ogni ostacolo e annunciò il vangelo agli slavi per annunciare il vangelo inventarono un alfabeto che da loro si chiama ancora oggi alfabeto cirillico affidiamoci la loro intercessione giovanni paolo secondo nel 1980 li proclamò insieme a san benedetto patroni d'europa ecco il vangelo di oggi in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli gesù risorto disse ai suoi discepoli andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvato ma chi non crederà sarà condannato questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome scacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non reccherà loro danno imporranno le mani ai malati e questi guariranno parola del signore così fecero anche i santi cirille metodio hanno parlato lingue nuove addirittura hanno inventato un nuovo alfabeto hanno inventato lingue nuove per annunciare il vangelo di cristo il loro esempio ci invita a pregare per la pace e si vennerà a roma per trovare conferma al loro ministero e per salvaguardare l'unità della chiesa in tempi in cui era già difficile l'unità in questi tempi duri segnati da troppe guerre preghiamo per la pace e supplichiamo dio che la chiesa possa essere segno di riconciliazione in questo mondo lacerato santi cirille metodio pregate per noi buona giornata salutato gesù cristo